Ciao, vogliamo invitarti presso la Casa della Conoscenza mercoledì 16 novembre alle ore 6 per l'incontro sulle legalità della Rassegna di Politicamente Scorretto. Insegnati ai studenti di Casa Lecchio ricrediteranno il valore degli 15.000 a scuola per un'educazione alla legalità. I docenti dell'Istituto Tecnico Salvemini presenteranno il loro libro Mafia e Dura educarà la cittadinanza e noi studenti della Quinta Più del liceo da Vinci insieme al prof. Giacomo Ciacci e ai rappresentanti del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze racconteremo la nostra esperienza della colchina bianca della legalità. Introdurrà l'incontro con Certo Bevacqua, assessore alle risorse in pazza per le opportunità del comune. Inoltre il collettivo libero del nostro liceo sarà presente per la vendita dei prodotti di Libera Terra.